Good Morning Milano, il giovedì è il giorno del teatro e ovviamente è sempre coaudiovato dai brevissimi e bellissimi suggerimenti che ci dà la nostra Tamara Malleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Morning Milano e Star Radio. Come stai oggi? Tutto bene, tutto bene. So che tu sei lontana da casa in questo momento, giusto? Sì, sono in Puglia perché sono venuta per il matrimonio di un mio amico collega e quindi sto passando questi giorni in Puglia, ma non sono già di ritorno, però devo dire tempo bellissimo e matrimonio bellissimo. Allora, tanti auguri agli sposi anche e allora poi invece so che comunque nonostante la distanza hai dato un'occhiata a quello che la nostra città ci riserva per i prossimi giorni e quindi dove possiamo andare? Siamo prontissimi e prontissime per raccontarvi, uso il plurale perché in realtà il teatro è fatto da tante voci, da tanti appunto sguardi e noi allora partiamo con, come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, le stagioni teatrali partono a metà ottobre, ma Milano chiaramente si propone con assolutamente degli appuntamenti imperdibili. Allora, partiamo da Aprecu. Aprecu si trova, ormai è un luogo che si trova in Porta Romana, in via della Vraida. La settimana scorsa io appunto sono andata a vedere uno spettacolo bellissimo del duo Beth Davis, veramente in questo spazio accogliente, molto bello. Adesso invece parte ufficialmente la stagione comica di Aprecu, diretta da Francesca Cuglisi, che è un'attrice bravissima. Laura Formenti, che è una stand-up comedian, diciamo così, molto conosciuta, che parla appunto non solo di temi femminili, ma insomma di tanti temi attraverso la risata. Laura Formenti sarà proprio ad Aprecu venerdì, quindi domani sera, con Drama Queen e appunto aprirà questa stagione comica dove ci saranno poi molti appuntamenti, una volta al mese fino a dicembre, poi ci sarà una stagione diciamo così invernale. Questo è l'appuntamento, vi ricordo, Aprecu in Porta Romana, quindi metropolitana gialla. Allora, poi, continua? Vai, vai, prego, prego, continua pure, perché appunto sono tanti appuntamenti che abbiamo. Da Porta Romana ci spostiamo dove? Ci spostiamo in centro, ci spostiamo al Teatro Filodrammatici, che si trova proprio accanto alla Scala, quindi metropolitana rossa fermata a Duomo. Il Teatro Filodrammatici inizia la sua stagione appuntamente a ottobre, ma inizia con una tradizione che riprende dal suo percorso, cioè con un evento che si chiama Contesto, che è un po' un appuntamento tradizionale del Teatro Filodrammatici. ci sono cinque notizie, ci sono cinque registi e cinque drammaturghi che lavorano per 24 ore insieme, insieme a una serie di attori e attrici che si mettono insieme senza aver mai lavorato insieme, o avendo lavorato insieme ma in un contesto diverso. Cinque notizie vere, reali, del mondo che ci circonda, che vengono appunto lavorate drammaturgicamente e attorialmente e per poi essere presentate il lunedì 30 a settembre al Teatro Filodrammatici, una specie di grande festa dove poi dopo lo spettacolo si potrà anche parlare con gli attori, con le attrici, con i registi, con le registe, e quindi un po' una festa del teatro in qualche modo al Teatro Filodrammatici e poi appunto da metà ottobre un po' a partire alla stagione in cui parleremo. Bene, allora adesso ti chiedo, Tamara, ce ne sono altre immagino, giusto? Ce ne sono altre ancora, vero? Sì, sì, abbiamo un altro appuntamento e poi volevo darti un consiglio letterale. E allora tieni di lì perché ci ascoltiamo Bob Marley e poi torniamo con gli altri consigli di Tamara Malleo. È sempre qui Tamara perché insomma sono interessanti. Abbiamo segnato i primi due, adesso un altro e poi anche un consiglio letterario. Grazie Tamara. Sempre qui con Tamara Malleo, parliamo di teatro. Tamara, allora primi due appuntamenti, primi due consigli che ci li hai dati, adesso arriva un terzo consiglio e poi anche uno letterario. Quindi lascio la parola a te Tamara. Allora, volevo proporvi questo spettacolo di una giovane, perché ormai il giovane viene dato in una classificazione di età molto ampia. Però una giovane attrice, Francesca Muscatello, che io ho conosciuto perché fa parte dell'Accademia dei Lunanzi, quindi dell'Accademia fondata da Loris Fabiani. Francesca Muscatello debutta con uno spettacolo suo, scritto da lei insieme a Giorgia Ineri, si chiama Millennials Bug e la maturgia di Giorgia Ineri si debutteranno il 29 settembre, quindi domenica, a Villa Pallavicini, in via Meucci 3, mi sono informata, metropolitana verde, crescensago, quindi si può facilmente raggiungere, ed è il racconto di una generazione, la protagonista compie 30 anni. Cosa succede quando scoccano questi 30 anni? Non fai parte più della generazione che deve conquistare il mondo, ma non se neanche chi ha già raggiunto molti obiettivi della propria vita. Quindi sei un po' nella fase di mezzo, c'è un confronto costante con le altre persone della propria generazione, dove si è arrivati, come si sta facendo, quali obiettivi bisogna raggiungere, e in un viaggio interiore che poi si manifesta esteriormente attraverso una festa che viene organizzata proprio per questi 30 anni, la protagonista fa questa riflessione sulla sua generazione, ma in realtà su un po' tutte le domande che ci poniamo anche in altre fasi della vita. È una specie di festa di compleanno, lo spettacolo, quindi siamo tutti invitati a questa festa di compleanno, Millennials Bug, Villa Palavicini, Via Neucci 3, La Fermata, Metropolitana, Crescinfago, Linea Verde. Sì, molto bella Villa Palavicini, proprio in fondo al Viglio Martesana, proprio dove finisce Via Padova, è anche una zona molto carina dove andare. E poi arrivò il consiglio letterario di Tamara Manguio. Sì, no, perché ho appena finito di leggere un libro che mi ha molto colpito e mi ha aperto tantissime riflessioni. Il libro si chiama Mostri di Claire Dederer. È un saggio che parla del distinguere o non distinguere le vite degli artisti dalle proprie opere, il tormento dei fan, nel senso che molto spesso succede questo, no? Chi, un regista, una scrittrice, può compiere degli atti nella sua vita personale che non condividiamo e a quel punto ci chiediamo ma è giusto continuare a seguire quell'artista? Cosa si crea in noi nel approcciarci ad una persona con cui non condividiamo dei principi, il modo in cui si sono comportati nella loro vita reale? Le loro opere sono comunque qualcosa di separato dalle loro vite o quelle opere in qualche modo hanno dentro di sé che è parte di quello che hanno fatto. Ci sono personaggi molto diversi in questo viaggio compiuto da Claire Dederer che dentro questo viaggio ci sono molte riflessioni personali quindi c'è proprio una riflessione su ciò che accade all'autrice quando si confronta con i grandi miti che lei ha, stiamo parlando di Woody Allen, di Roman Polanski, ma anche di tantissime donne, quindi non soltanto uomini, Virginia Woolf, la Rowling, insomma tantissimi personaggi secondo me è un approccio interessante e critico nei confronti di un tema che è molto attuale che è tornato alla ribalta anche con Alice Moore. Secondo me bisogna riflettere sul tema, non ci sono risposte, questo è un saggio che non pone tante domande ma non dà risposte come i migliori saggi, però secondo me capire che cosa, come ci relazioniamo con le opere di chi compie delle azioni che non condividiamo può essere un interessante viaggio Molto, molto, molto interessante. Poi sì, insomma siamo troppo abituati anche ad avere le risposte e mai a porci le domande, quindi invece è un interessante spunto questo, Tamara. Tamara, grazie mille, siamo in chiusura non prima però di ricordarci dove possiamo approfondire invece la conoscenza con te. Allora, diciamo così. Suonava male, devo dire che suonava un po' male detta così effettivamente, però dici dove possiamo seguirti, Tamara. L'appuntamento con teatro Manina che è l'abitudine del teatro in altre forme, canale 191 del digitale il venerdì alle 16.40, ancora per questa settimana e poi cambieremo orario, e poi lunedì su Antenna 3, canale 11 alle 23.30. E allora grazie mille Tamara, buona giornata, buona Puglia e ci si rivede settimana prossima da Milano, giusto? Certo, sì, assolutamente, vi aspetto. Grazie mille Tamara, avanti con un po' di musica adesso.